ed è terzo oro olimpico alle olimpiadi di rio niccolò campriani trionfa nella carabina 10 metri aria compressa vincendo con un punteggio di 206.1 ha superato nel testa a testa finale l'ucraino sergi kulish mentre il bronzo è andato al russo vladimir maslenikov l'atleta che aveva già conquistato l'oro olimpico nella carabina 50 metri alle olimpiadi di londra migliora l'argento che aveva ottenuto nella medesima specialità sempre a londra campriani si era qualificato per la finale olimpica con 630.2 stabilendo un nuovo record